Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, vedete, nella storia della nostra Repubblica il percorso della destra italiana, oggi rappresentata dal mio partito da Fratelli d'Italia, si è sempre contraddistinto per aver tenuto al centro del proprio cammino, al di sopra di ogni altro tema, il concetto della patria. Siamo oggi, come lo eravamo ieri, i più convinti sostenitori della sovranità della nostra nazione. E se solo per un minuto provassimo il tragico esercizio di medesimarci nei panni di un nostro coetaneo ucraino, che come noi ama la terra dei padri, la sua bandiera, il suo inno nazionale o, molto più concretamente, la libertà di poter vivere nella propria nazione con i diritti di un cittadino europeo qual è, capiremmo in quel solo minuto la sofferenza e del desiderio di rivalsa che gli ucraini stanno vivendo oggi. Ormai nove mesi dentro un conflitto che, in maniera unilaterale, nel totale dispregio dei fondamenti costitutivi della Carta delle Nazioni, la Federazione russa ha scatenato contro la nazione sovrana ucraina. Un conflitto che segna la fine di un'epoca di pace diffusa in Europa e che, oltre a minare il diritto di autodeterminazione del popolo ucraino, al quale rinnoviamo tutta la nostra solidarietà e fraterna vicinanza, va a minare le stabilità delle stesse culture occidentali, vero grande valore di civiltà. L'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite sul divieto dell'uso della forza sancisce che ogni Stato deve astenersi nelle sue relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia con l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Tale principio, dapprima subordinato all'assoluta preminenza del diritto di sovranità degli Stati, è ormai diventato il fulcro attorno al quale ruotano oggi le relazioni internazionali, ed è alla base della condanna internazionale della Federazione russa per l'invasione dell'Ucraina. Vi è dall'altra parte il diritto fondamentale alla legittima difesa, che garantisce agli Stati che si trovino in una particolare condizione, come ora l'Ucraina vittima di un attacco armato, la possibilità di agire a tutela della propria sovranità e della propria indipendenza politico e territoriale. E se il diritto alla legittima difesa giustifica la richiesta di aiuti militari e di supporto logistico da parte dello Stato offeso, anche le conseguenze della guerra sull'economia mondiale, sulla crisi energetica e sulla crisi alimentare di alcune zone del pianeta, non possono lasciarci indifferenti e spettatori passivi di questa tragedia, senza intraprendere tutte le iniziative necessarie a porre fine, nel più breve tempo possibile, il conflitto in atto. Voltare le spalle di fronte all'aggressione nel cuore dell'Europa della Federazione russa al popolo ucraino, senza fornire loro tutti i mezzi necessari per poter esercitare il sacrosanto diritto alla legittima difesa, significherebbe non riconoscere come fondamento del diritto internazionale i principi di sovranità e integrità territoriale e autodeterminazione dei popoli. Significherebbe minare e stravolgere l'ordine internazionale, faticosamente e dolorosamente raggiunto nel XX secolo col dolore di sacrificio di milioni di persone. Significherebbe voltare le spalle a se stessi, a noi tutti, alla storia del nostro Paese, alla storia dell'Europa intera e della sua civiltà millenaria. L'aggressione russa ha portato la guerra nel cuore dell'Europa, minacciando la stabilità internazionale delle nostre nazioni e causando contraccolpi devastanti per le nostre economie, rimettendo in discussione tutto il sistema di approvvigionamento energetico e delle materie prime. Sarà fondamentale per la nostra Nazione proseguire sul solco tracciato dal nostro Presidente Giorgia Meloni, in una nuova stagione di accordi internazionali all'interno di quella che è la collocazione naturale dell'Italia, in maniera indiscutibile dentro l'Alleanza Atlantica, nel pieno sostegno al valoroso popolo ucraino, come appunto ha detto il nostro Presidente, non soltanto perché è inaccettabile l'aggressione di una nazione sovrana, ma anche per tutelare il nostro interesse nazionale. Interesse nazionale che diventa centrale in questa fase dove la Federazione Russia attua un'aggressione militare all'Ucraina ed un'aggressione economica al resto dell'Occidente. L'intento malsano di voler limitare le forniture di gas devono indurci a pensare con la massima celerità a nuove forme di approvvigionamento energetico e bene fa il Governo a sostenere con forza che sia finito il tempo dei no a tutto. L'Italia deve trovare il modo per essere quanto più autonoma possibile e nel più breve tempo possibile, se vuole raggiungere un livello di indipendenza energetica accettabile e quindi un livello di sovranità accettabile. La strada per raggiungere l'obiettivo passa inequivocabilmente dal coinvolgimento dei territori e degli enti locali, che sapranno senza ombra di dubbio contribuire fattivamente con il Governo alla ricerca di soluzioni energetiche, ma è di fondamentale importanza velocizzare tutte le procedure autorizzative ambientali e paesagistiche, ovviamente nel pieno rispetto dei vincoli idrogeologici per evitare che le popolazioni siano messe a rischio, ma con la consapevolezza che questa battaglia si vince mettendo a sistema tutte le istituzioni centrali e locali, con l'unico obiettivo finale dell'autonomia energetica, non più derogabile. Risulta inoltre sempre più fondamentale la necessità di rafforzare il nostro apparato militare, portando la spesa per la difesa nazionale fino almeno al 2% del prodotto interno lordo, escludendo nella riforma del patto di stabilità la spesa per gli investimenti militari dal computo dei vincoli di bilancio. Troppo spesso i nostri militari e il nostro esercito sono stati oggetto di attacchi ideologici da parte di persone che vorrebbero vivere in un mondo fiabesco, dove le nazioni possono rinunciare alla difesa dei propri confini e delle proprie libertà. Ma la tragedia ucraina, suo malgrado, avrà sicuramente risvegliato le coscienze e avrà avuto almeno il triste merito di restituire dignità alle donne e agli uomini delle nostre forze armate, facendo tacere una volta per tutte le insostenibili voci dell'antimilitarismo militante. La capacità di azione del nostro esercito è fondamentale per garantire autorevolezza al nostro Governo e al nostro sistema diplomatico, che è tanto evocato anche nelle mozioni di alcuni gruppi di opposizione, dove in maniera non troppo velata si fa riferimento a cambi di strategia e approccio, alludendo a trattati di pace che in maniera oggettiva non possono esistere senza il riconoscimento della nazione ucraina, invasa dalla Russia, che non accetta affatto a nessun cambio di approccio. A chi in quest'Aula parla di una strada esclusivamente diplomatica per arrivare alla pace nel martoriato territorio ucraino, chiedendo di interrompere l'invio di armi all'Ucraina, vi è da chiedere quali siano i mezzi diplomatici che da soli possono indurre la Federazione russa ad interrompere l'invasione. Come disse qualcuno in un passato non troppo lontano in Europa, non si può trattare con la tigre se la tua testa è dentro le sue fauci. Non vi è contrasto tra l'uso della forza per difendersi da un'invasione armata e l'azione della diplomazia. Sono due strade che devono essere percorse parallelamente, fino ad arrivare alla convergenza finale del termine del conflitto e ristabilire l'equilibrio geopolitico di quell'area. Senza le azioni diplomatiche il conflitto durerebbe un tempo inaccettabile, con gravi conseguenze per la popolazione Ucraina. Ma ancor più gravi sarebbero le conseguenze affidandosi unicamente all'azione diplomatica e lasciando l'Ucraina a difendersi solo con i propri mezzi in una lotta impari. Significherebbe attendere l'inesorabile sconfitta di una nazione sovrana e la sua sottomissione alla Federazione russa, situazione inaccettabile per l'Europa e per l'equilibrio geopolitico mondiale. Da parte di questo Parlamento deve essere ferma e totale la condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Così come ferma e totale deve essere il sostegno militare con l'invio di armi alla legittima difesa della nazione ucraina. Il sostegno alimentare e sanitario in loco della sua popolazione è l'accoglienza e l'assistenza dei profughi che abbandonano la propria terra attraverso dei corridoi umanitari che salvaguardino la parte di popolazione più fragile, bambini e anziani in primis garantendogli accoglienza presso gli Stati europei. Correttamente e coerentemente il mio partito, sin dall'inizio del conflitto, ha dichiarato la propria contrarietà all'invasione russa in Ucraina e ha avuto il buon senso di condividere azioni in favore della credibilità italiana, per dare tutto il sostegno militare e fornire assistenza umanitaria, finanziaria ed economica al popolo ucraino. E lo ha fatto pur essendo allora l'opposizione, con spirito costruttivo, di chi non fa opposizione preconcetta e contrapposizione integrale su tutto, come purtroppo stiamo assistendo in queste ore e in questi giorni. Fratelli d'Italia è oggi, come allora, fermamente convinto della necessità di un sostegno umanitario e militare all'Ucraina, intensificando l'azione diplomatica nella ricerca di una risoluzione di pace che garantisca la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il nostro auspicio è che oggi quest'Aula possa spogliarsi da qualsiasi titubanza e distingo e decida di sostenere all'unanimità la scelta di stare dalla parte dell'Occidente, dalla parte della libertà e dalla parte dell'Ucraina. Grazie.